Presidente Marsilio, io direi una grande terza edizione degli internazionali d'Abruzzo, cornice di pubblico splendida, una bella domenica di sport che ha concluso una bella settimana di sport. E' anche una partita tiratissima e molto emozionante, quindi la città di Francavilla, come ho detto al pubblico durante la premiazione, si è dimostrata senz'altro all'altezza, insieme a tutto il circolo del tennis e a tutta l'organizzazione, di ospitare un evento di rango internazionale, che sono le cose di cui l'Abruzzo ha bisogno e che gli abruzzesi meritano, far crescere di livello il nostro sport, le nostre attività, la promozione del nostro territorio e permettere quindi attraverso questa crescita anche una maggiore pratica, un avvicinamento delle giovani generazioni che senz'altro si hanno occasione di vivere momenti così intensi ed emozionanti, si avvicineranno anche con maggiore facilità e con più passione a questo sport e come a qualunque altra attività sportiva, quindi grazie e complimenti per l'organizzazione di questo torneo.